ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it in tantissimi mi avete scritto in queste settimane dopo la pubblicazione del video dedicato alla grafica essenziale per domandarmi come fare per far scorrere un testo da sinistra verso destra piuttosto che da destra verso sinistra beh sì è vero avete ragione effettivamente lo strumento per far scorrere il testo in orizzontale ancora non è disponibile nella nuova grafica essenziale abbiamo visto nel tutorial dedicato appunto alla grafica in premier pro come far scorrere un testo una grafica dall'alto verso il basso piuttosto che dal basso verso l'alto e vi ho anche accennato al fatto che alcuni strumenti come lo scorrimento orizzontale ancora non sono disponibili nel nuovo modulo della grafica essenziale bene per aiutare quanti di voi non riescono a far muovere il testo in orizzontale ecco oggi c'è questo video tutorial in cui cercherò di mostrarvi come utilizzare la vecchia titolatrice per lo scorrimento orizzontale del testo passiamo a premier pro sapete bene quello che dovete fare create un progetto una volta che avete creato un progetto dovete creare una timeline non una cartella come ho fatto erroneamento e control b scegliete un preset tra quelli disponibili vado molto rapido su questa parte perché sono sicuro che quanti di voi hanno già seguito il corso base di premier pro sanno benissimo cosa sto facendo chi avesse dubbi su come lavorare con le sequenze ecco possono andare a recuperare i tutorial dedicati appunto sulla playlist dedicata al corso di premier pro in questo canale youtube o sul mio sito internet www.fabbyambrosi.it allora una volta che avete creato la vostra sequenza dobbiamo creare il testo da far muovere da sinistra verso destra o da destra verso sinistra come vi dicevo nell'introduzione lo strumento per far scorrere il testo in orizzontale non è presente nella grafica essenziale dobbiamo accedere alla vecchia titolatrice che è uno strumento fantastico meraviglioso ma che adobe ha già spiegato e ha già annunciato che di smetterà quindi tra qualche mese quello che stiamo per fare adesso con la versione 22.0 di premier probabilmente non sarà più possibile quindi si potrà fare con la grafica essenziale normalmente però fino ad allora e se avete una versione di premier diciamo non aggiornatissima ecco questa è la tecnica da utilizzare per creare un testo che scorre da sinistra verso destra o da destra verso sinistra intanto apriamo la vecchia titolatrice quindi file nuovo e cercate la voce titolo precedente già il nome è abbastanza chiaro è questo nome precedente ci fa intuire che molto presto questa funzione verrà rimossa da premier diamo un nome al nostro titolo titolo orizzontale oppure quello che volete voi insomma cliccate su ok verrà aperta questa che è la titolatrice probabilmente già riceverete un avviso che questa funzione presto verrà dismessa purtroppo ti aggiungo io però per il momento tant'è per poter far muovere un testo da sinistra verso destra o da destra verso sinistra intanto creiamo un nuovo testo quindi strumento testo e scriviamo testo che scorre in orizzontale da destra verso sinistra o da sinistra verso destra non so cosa io abbia scritto ma se voi chiudete questa finestra e andate a posizionare il testo nella timeline non vedrete assolutamente nulla di interessante il testo resta lì fermo come farlo muovere bene in questa schermata c'è un bottoncino eccolo qui lo vedete lo ingrandisco nell'area principale è il secondo bottoncino in alto lo cliccate e vi apparirà la finestra delle opzioni di scorrimento in questa finestra scegliete scorrimento orizzontale a sinistra o scorrimento orizzontale a destra possiamo anche dare un offset quindi uno scostamento al nostro titolo per fare in modo che per esempio termini fuori dallo schermo e che inizi fuori dallo schermo clicchiamo su ok a questo punto possiamo chiudere la nostra titolatrice e mandare in play il nostro testo scorrerà in orizzontale da destra verso sinistra o ma io voglio far scorrere il mio testo al contrario da sinistra verso destra come devo fare bene riaprite il titolo sempre opzioni di scorrimento e scegliete l'ultima voce scorrimento orizzontale a destra quindi se chiudiamo tutto rimandiamo in play e vedrete che la la direzione è invertita o è abbastanza semplice direi bene io spero che sia chiaro perché veramente in tanti avete scritto per avere delucidazioni su questa possibilità la vecchia titolatrice è ancora lì ma non abituatevi troppo perché presto adobe la toglierà e poi probabilmente questa funzione sarà introdotta sarà introdotta sarà inserita nel nuovo modulo della grafica essenziale quindi non vi preoccupate avrete sempre modo di far scorrere il testo in orizzontale come volete voi per adesso è tutto vi ringrazio iscrivetevi a questo canale youtube se ancora non siete iscritti accendete le notifiche mettete un like a questo video ovviamente se vi è piaciuto commentate per insultare il mio fantastico cappello che ama i vostri insulti ma anche i vostri apprezzamenti del resto sapete bene come funziona il mio cappello ormai da qualche mese è parte integrante di questi video tutorial cercatemi su instagram fabio ambrosi punto fabio cercatemi e seguitemi anche lì ovviamente su facebook la pagina da cliccare è fabio ambrosi grazie mille e al prossimo video tutorial ciao